Sono qui per confermare, ovviamente io voterò in questa provincia, quindi sono particolarmente contento, seppure candidato a Roma, voglio dire che da segretario nazionale esprimo davvero un grande onore, per me è un privilegio essere candidato nella capitale d'Italia, uno dei collegi più importanti del nostro paese, nel Roma capitale, della città, vicino Ciampino e al Senato, sto facendo campagne elettorali come la faccio in tutta Italia, però sono particolarmente contento di questo passaggio a Salerno che mi consente dire che ho particolare piacere a dichiarare, solitamente il voto è segreto, ma a dichiarare che siccome voterò in questa provincia, voterò per il Partito Democratico, Italia Democratico e Progresista, questo bellissimo nucleo iniziale di rapporto, di collaborazione nel centro-sinistra che abbiamo avviato con il PD, con l'articolo 1, il PSI, Demos e altre forze, che è la vera forza responsabile che può dare garanzie per il futuro di questo paese. E quindi sono particolarmente contento di votare Piero De Luca, di votare il PD dalla democratica e progressista e di prendere a nome di tutti i socialisti del segretario provinciale Silvano De Luca, tanti riferimenti del partito, amministratori in questa provincia esistiamo, che sono impegnati da tempo, come se avessimo, fossimo noi direttamente candidati, impegnati a chiedere il voto per questa coalizione, per la nostra lista e per Piero De Luca. Quindi bocca al lupo a noi e vedrete che il 25 vinceremo.